Buongiorno a tutti. Quella che si è conclusa lo scorso 21 agosto è stata indubbiamente la stagione più difficile nella storia dello sport. Solamente le due guerre mondiali avevano avuto effetti così sconvolgenti. Ma la Serie A, sospesa per decreto del Governo, è un evento unico nella storia del nostro calcio che non ha precedenti. La stagione 2019-2020 per l'Inter ha sancito il principio di un nuovo cammino. Fin dall'inizio l'obiettivo chiaro che ci eravamo prefissi era quello di consolidare il progetto sportivo che la proprietà aveva delineato con lungimiranza e competenza. Creare un modello fondato su basi solide che ci dovrà consentire di tornare alla vittoria nel tempo attraverso un percorso di crescita continua e graduale. Abbiamo affidato la guida tecnica ad Antonio Conte, uno dei migliori allenatori del mondo, che ha da subito plasmato il gruppo nella mentalità, nel senso di appartenenza e garantito qualità di prestazioni e continuità di risultato. Il campionato si è dovuto drammaticamente arrestare per oltre tre mesi. Il lockdown ha rappresentato una difficoltà immensa per tutti i club, ancora di più per quelli come il nostro, impegnato in un percorso di costruzione e di crescita che si è dovuto necessariamente interrompere. Con coraggio, totale abnegazione e spirito di sacrificio abbiamo ripreso il nostro percorso che si è concluso con la conquista del secondo posto in campionato con 82 punti in classifica, mai così tanti dal 2009-2010, anno del triplete, con la miglior difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Anche il nostro cammino europeo è stato avvincente. Abbiamo regalato a tutti i tifosi interisti un mese di agosto di grande emozioni, riportando l'Inter a disputare una finale di Coppa Europea dopo dieci anni. Stiamo creando un progetto a lungo termine intorno alla visione di Antonio Conte, di cui abbiamo già visto i risultati sportivi e valoriali. Abbiamo valorizzato i giovani talenti, penso a Lautaro Martinez, a Barrella, a Bastoni, questi ultimi patrimonio del club e della nostra nazionale. L'Inter in questo modo è diventata ancora più appetibile per calciatori di livello internazionale. Una gestione finanziaria attenta e oculata è stata alla base della politica di rafforzamento della squadra per le competizioni della stagione in essere. Conseguenza anche del contesto economico generale di contrazione e di una sessione di mercato anomala per collocazione temporale e durata. Allo stesso modo hanno operato la maggioranza delle bighe europee. In uno scenario di grande incertezza, ancora nel pieno della pandemia e dalle dolorose limitazioni che l'emergenza impone, è ripartita la stagione 2021. Sappiamo perfettamente che anche questa sarà una stagione anomala, da un punto di vista economico e sportivo. In tutto il mondo, a causa dell'emergenza sanitaria, la parola d'ordine è austerity. Il tema della sostenibilità del calcio, già ampliamente emerso nell'epoca pre-Covid, è cruciale in una fase di crisi senza precedenti. La riduzione del costo del lavoro è un passaggio necessario, al quale tutte le componenti si dovranno sottendere e col senso di responsabilità e realismo. Senza un ridimensionamento reale, questo sistema rischia il fallimento. Altrettanta attenzione deve essere riposta affinché venga correttamente riconosciuto il grande rilievo che il calcio ricopre nella classifica delle industrie della nazione in termini di contribuzione al gettito fiscale, favorendo un meccanismo certo di differimento della tassazione. Aiutare la sostenibilità del sistema calcio senza incorrere in semplici demagogie significa indirettamente fornire enormi benefici al sistema paese. Lo stato d'animo di grande preoccupazione dei calciatori per la salute propria e dei propri familiari, i casi di contagio che comportano indisponibilità improvvise, creano una grandissima difficoltà psicologica e fisica che inevitabilmente incide in maniera consistente sulla preparazione e l'esito aleatorio delle partite. Stiamo chiedendo un sacrificio enorme agli atleti, spesso richiamati anche ad evitabili impegni con le proprie nazionali, sottoposti a ritmi innaturali ed ossessivi e alle strutture tecniche ed organizzative che ci sono dovute adeguare ad una condizione di emergenza senza precedenti. L'Inter ha iniziato un progetto con l'obiettivo di essere sempre competitiva fino al termine di tutte le manifestazioni alle quale partecipa. L'unione di intenti tra proprietà, dirigenza e allenatore è alla base fondamentale per affrontare insieme tutte le difficoltà inevitabili di un percorso che, siamo certi, porterà risultati. La crescita costante di risultati stagione dopo stagione è il nostro obiettivo, per attestarci costantemente su alti livelli. Vorrei ringraziare tutti voi azionisti che ci supportate per la vostra grande passione e amore per l'Inter, con il migliore augurio di potersi ritrovare e riabbracciare presto tutti insieme a San Siro. Grazie.